venticinquesima serie alla partenza in corsia uno Igor Dolic, Caor Nenoso, corsia numero due Alvis Bassalini, stile libero, corsia tre, Ibiacopo Santinone, Gabbiano, alla quattro, Piedro Capellari, Acquapolis, cinque, Milibro Cavallaro, Madrianuoto, corsia numero sei, Giorgio Paoli, Ibros, alla sette, Tommaso Dall'Amora, Città, Sport, Lucenza, corsia numero otto, Andrea Vincentino, la motorium treviso. Grazie a tutti.